3 Ramblas Densi partiti, il cavallo numero 3 Ramblas Densi non corre, scarta vistosamente il numero 7 Rapsudi alla partenza ed è il numero 6 Rache ad incaricarsi della andatura, Rache nei confronti di Rubino, questi primi due che imboccano la prima piegata, Rache il Rubino, terza posizione per Rosa Multina che ha all'esterno il numero 5 Ranoa seguito dal numero 2 Ragno di Ozzieri, in quest'ordine i cavalli imboccano la retta opposta con il battistrada Rache che conduce nei confronti di Rubino, numero 14 dello schieramento, terza posizione risale Rosa Multina con all'esterno Ranoa, si fa sotto anche il numero 8 Rijad con all'esterno Ragno di Ozzieri, cavalli che hanno affrontato tre quarti della retta opposta, inizia la piegata conclusiva con Rache che conduce nei confronti del numero 14 Rubino, all'esterno progredisce anche Rosa Multina con il numero 8 Rijad, con Ragno a talonarli da vicino, si avvicina anche il numero 4 Rempling, cavalli che si presentano in dirittura, mantiene lo steccato Rache nei confronti di Rosa Multina che lo attacca all'esterno, progredisce Rijad Rijad, centropista, Rosa Multina, Rijad, attacco esterno da parte dei due che passano contemporaneamente, Rosa Multina, Rijad in lotta, Rijad, Rijad viene a vincere sul numero 13 Rosa Multina del numero 15 Rudas, al quarto posto il numero 6 Rache, si attende l'ordine ufficiale.